L'assessore ha seguito delle diverse segnalazioni dei cittadini e soprattutto dei residenti di Fenile, il comune che cosa risponde? Anche il comune ha segnalato varie volte questa situazione incresciosa alla provincia di Pesururbino perché la pista ciclabile ancora non è nella disponibilità del comune di Fano in quanto i lavori non sono stati ancora collaudati e consegnati al nostro comune quindi abbiamo sollecitato anche noi come immagini cittadini alla provincia di Pesururbino affinché possa provvedere con un mezzo meccanico in sicurezza e anche in maniera abbastanza celere alla pulizia della pista ciclabile del Fenile che soprattutto ed evidentemente soprattutto in estate viene utilizzata da tantissimi cittadini. Purtroppo il comune di Fano non può intervenire perché altrimenti farebbe un danno alle casse comunali pertanto anche noi siamo a chiedere e a sollecitare l'intervento della provincia di Pesururbino affinché possa ripulire da varie erbacce e rami che entrano nella pista ciclabile questo importante collegamento ciclopedonale. Pesururbino Pesururbino Pesururbino